Il mio rapporto con i compositori contemporanei è fondamentale perché in questo modo la nostra interazione porta alla creazione di musica nuova il più possibile eseguibile nel migliore dei modi con il clarinetto o con il corno di bassetto e quindi riesco a stimolare anche la curiosità di questi artisti attraverso le mie tecniche proprio particolari dello strumento alla ricerca come ho già detto di nuove musiche di tecniche inesplorate, di timbri particolari che possono poi essere sviluppati da questi grandi compositori. Grazie